musica wey bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi parliamo di settimana numero 5 ragazzi oggi voglio farvi vedere la location esatta della stella segreta di questa settimana vi ricordo sempre ragazzi che siamo in collaborazione con i nostri amici di fortnite italy il gruppo telegram che vi invito ragazzi ad andare a controllare per tutte le news di fortnite trovate il link in descrizione beh ragazzi se ancora non lo avete visto questo è lo screen della settimana numero 5 che mostra un nostro bellissimo trog che dà da bere al pupazzo di neve voi qua non lo vedete bene perché ho davanti il mio logo ma ragazzi proprio là sotto se controllate c'è vediamo se riesco a farvelo vedere ve lo faccio vedere ecco c'è la stella segreta ragazzi quindi dov'è questa stella segreta nella mappa raga è semplicissimo siamo sotto rampe ghiacciate in questo riquadro raga dove c'è il pozzo chiamatelo così la caverna segreta e come ci mostra la schermata di caricamento ragazzi la stella segreta si trova esattamente sopra a questa piccola struttura di legno che è presente nella grotta io vi ringrazio tantissimo ragazzi per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo presto ciao ciao